buongiorno a tutti da giorgio di busto web tv sono un frequentatore abituale della piscina manara è la prima volta che vado dopo aver appunto appurato che c'è la nuova gestione mi aspettavo probabilmente dei cambiamenti in effetti insomma è cambiato un pochettino tutto ma vorrei soffermarmi su un piccolo episodio che mi è capitato stamattina ma indipendentemente da quello che è capitato a me è proprio una questione di principio di concetto che secondo me è sbagliato una volta pagato il biglietto mi appresto andare all'armadietto che c'è proprio ubicato nelle adiacente adiacente la cassa dove si possono depositare i documenti portafoglio eccetera eccetera un mobiletto che è sempre stato con diverse caselline chiuse che è sempre stato a chiave quindi tu avevi la tua chiave chiudevi i valori e poi andavi in piscina un servizio sicuramente comodo questa volta vado dentro e trovo un armadietto casellare fatto in modo diverso praticamente non c'è più la chiave sono state sostituite con delle serrature elettroniche comandate digitalmente quindi tu devi digitare il codice numerico hai un codice numerico da sei cifre e quindi si chiude la cassettiera ecco a me questa cosa è sembrata un po assurda perché presumo che gente che va insomma non è che identifica beh magari si può mettere la data di nascita per l'amor del cielo si possono mettere però generalmente la gente soprattutto magari persone anziane che usufruiscono di tale servizio non è che stanno troppo a pensare insomma non è che ti devi ricordare poi il numero quando esci mettono dei numeri magari semplici come può essere 111 può essere il numero della casella io per esempio ho ripetuto tre volte il numero della mia casella numero 15 no e insomma fatto sta che esco dallo spogliatoio scopro che qualcuno ha aperto il mio mobiletto poi va beh ha consegnato tutto alla casa non è successo niente ma al di là di questo voglio dire ma non sarebbe più opportuno ritornare a la sistemazione vecchia quindi con il mobiletto a chiave perché mi sembra che questo sistema di sicurezza ne abbia veramente ben poca perché basta mettersi lì a digitare più numerazioni insomma prima o poi qualche qualcuno che ha inserito una combinazione abbastanza semplice lo trovi ora stamattina è capitato che qualcuno è aperto vabbè da parte loro dicono che ho chiuso male il mobiletto a me non sembra perché ho sentito proprio la serratura muoversi poi quando ho chiuso tutto cioè proprio la parte elettronica l'ho sentita funzionale ma può anche darsi ma al di là di questo episodio mi chiedo ma perché non ritornare all'origine perché questo sistema secondo me oltre che essere poco sicuro insomma non offre molte garanzie è una cosa magari un aspetto marginale rispetto a quelli che possono essere altre vedute per quanto riguarda il complesso natatorio altre problematiche io ho notato questo e la volevo sottolineare perché è una cosa che è capitata a me ma potrebbe capitare a chiunque quindi alla faccia del mobiletto ritorniamo al vecchio sistema speriamo che la nuova gestione della piscina possa prendere in considerazione questa cosa perché qualcuno potrebbe insomma prima o poi che il morto ci scappa ecco in senso ovviamente figurativo cioè nel senso che prima o poi qualcuno il portafoglio ce lo lascia grazie buongiorno